Buone opepsia a tutti! Ho trovato l'omino di zenzero, mai mangiato Mmm E' la cosa più morbidosa della vita, è buonissimo E' il biscotto più buono che abbia mai mangiato da loro Ma dimenticavo la piccola panoramica generale Del latte si unisce alla lotta No, è troppo buono da solo Mmm Il solito pignè è caffè, che ormai prendo tutti i giorni Mmm La parte migliore è il cioccolatino e il caffè Sappiate che ho preso una grave decisione Comprerò panettoni di pasticceria Niente panettoni alla merda, perché costano poco 25 euro l'uno, oltre a un 12 per un tre marie E loro chiudono a gennaio e febbraio Quindi io devo avere dei panettoni Mmm Spettacolare E' la prima più buona del mondo E' veramente buono Il petto forte Qui dentro c'è mela e crema, penso Mmm Buonissimo Il ripieno è un velo Ma è troppo buono Non lo prendo mai, ma Buonissimo Perché non è una porcata Allora ti viene da prendere quelle cose gigantesche Mmm Mela vera, eh Mi caribo Prenderò un panettone classico Uno con la copertura di cioccolato E mi farò dare due creme Cioccolato e pistacchio E poi uno speciale Forse quello con i fichi Mmm Mmm Tutto gennaio e febbraio Mangeremo quello Mamma mia Il ripieno più buono del mondo Mamma mia Mamma mia Ultimo morso Mmm Adolto è tua anciaio Grazie.